Tra le pareti c'è una fessura di almeno 50 centimetri. Là c'è un cunicolo che scende giù per 4 metri e sotto c'è il bunker. È una grande stanza arredata lussosamente con mobili moderni in stile high-tech. Una scrivania, un grande divano, due grandi televisori a schermo piatto, il comodino, il letto a una piazza e mezzo, un armadio pieno di vestiti. E poi c'è la biografia di Steve Jobs. Ci sono i libri del magistrato Raffaele Cantone e del giornalista Gigi Di Fiore. E c'è Gomorra di Roberto Saviano.